Con la liberalizzazione sono nati più soggetti per le attività di produzione, trasporto, distribuzione e vendita ai clienti finali. Una società come Sorgenia copre e opera in quelli che sono i settori liberi, quindi soggetti alla libera competizione, quindi la produzione e la vendita. Poi esistono delle attività regolamentate, in particolare attività di distribuzione. È molto importante che il rapporto tra le società di distribuzione e le società di vendita sia regolamentato in maniera dettagliata perché non molti consumatori sanno che il titolare del dato, e quindi colui che ha la responsabilità dell'acquisizione del dato di misura, quanto un consumatore ogni mese consuma, sia famiglia che impresa, è la società di distribuzione, la quale deve fornire questo dato alle società di vendita, le quali società di vendita attraverso questo dato possono emettere le fatture o le bollette correttamente ai consumatori finali, i quali peraltro con l'avvio della liberalizzazione hanno giustamente un'aspettativa di qualità del servizio, oltre che di prezzo, migliore e tra la qualità del servizio c'è finalmente una fattura a consuntivo. Ancora oggi purtroppo ci scontriamo su questo tema con delle difficoltà in quanto la regolamentazione di settore non è completa e le società di distribuzione non hanno degli obblighi specifici sulla qualità delle informazioni e quindi dei dati di misura che debbono essere forniti alle società di vendita. Sarebbe sufficiente che, così come noi abbiamo degli obblighi nei confronti dei consumatori finali, sulla qualità del servizio che dobbiamo rendere loro, anche loro, sempre nell'interesse del consumatore finale, fossero obbligati a fornire ogni mese i dati reali a consuntivo di tutti i punti di riconsegna e quindi tutti i contatori che sono nella titolarità di una società di vendita affinché questa possa a sua volta metterli correttamente nelle bollette e offrire un servizio di qualità al cliente finale. I consumatori, soprattutto tutti quelli che hanno pagato in questi anni i nuovi contatori elettronici che consentono di far questo mensilmente con una qualità elevata, possono godere attraverso la loro società di vendita e nel caso nostro tutti i clienti di Sorgenia che possono godere attraverso questo impegno delle società di distribuzione di una fattura completa e corretta con dei dati a consuntivo.